Un nuovo modo di intendere la scuola e gli spazi scolastici. Accorato, la scuola senza zaino è una realtà nell'Istituto Cesare Battisti. Via i banchi e le cartelle e spazio al lavoro condiviso in aule concepite appositamente per questo nuovo concetto di scuola. Accorato si sono incontrati alcuni dei promotori di questo innovativo metodo scolastico per spiegare le caratteristiche della scuola del XXI secolo. La scuola senza zaino è una scuola in cui i bambini si liberano simbolicamente di un peso che deve oltre che essere fisico anche mentale. Per cui abbiamo praticamente la possibilità per i bambini di crescere fuori dai vincoli classici, dai modelli tradizionali e in libertà assimilare i valori della ospitalità, della comunità e della responsabilità. In Puglia sono circa 30 le scuole che hanno adottato il modello della scuola senza zaino, un numero che tende a salire data la riscontrata efficacia del metodo. Abbiamo iniziato circa 8 anni fa e ora siamo a 30 istituti e 60 scuole perché a volte lo stesso istituto ha l'infanzia, la primaria e la media.